Buongiorno, è uscito il nuovo numero di Pantone 85, moltissime le interviste, l'intervista a Luca Zaia dopo il referendum, l'intervista a Flavio Tosi e l'intervista a Stefano Cantiero, oltre agli speciali sulla scuola lavoro e su banca e finanza. Siamo in distribuzione dal 9 di novembre nei nostri 1350 punti vendita con le nostre 15.000 copie. Vi ricordiamo che per i distributori c'è il progetto Ambassador con moltissime opportunità. Per informazioni potete scrivere ad ambassador-veronanetwork.it ed infine vi ricordiamo la nostra cena di Natale a cui sarete invitati e di cui vi comunicheremo a breve la data.